Con più di 3.000 persone all'Anfiteatro Romano di Arezzo si è chiusa Toscana Arcobaleno Estate. Quattro giorni di eventi per salutare l'arrivo della stagione più attesa dell'anno. La rassata è stata organizzata da Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. Dopo il concerto gratuito di Loredana Bertè, l'aperitivo a chilometro zero nell'Anfiteatro Vestito a Festa, lo stiamo vedendo, numerosi stand hanno offerto il meglio dell'enogastronomia delle terre di Arezzo. 12 ore di musica.